l'affarata per preparare il Natale a casa, ad tornare alla casa. Forse sarebbe bene ricordare quando dice il profeta Geo, dice badate le vostre case e non badate la casa del Signore, quella solicitudine che abbiamo per le nostre case dovremmo averlo per questa casa del Signore che siamo noi quando ci riuniamo qui nel gruppo per lodare Dio, la comunità e anche la nostra famiglia. Dobbiamo considerare la nostra famiglia e rendere bella la festa della comunità e come curare bene la propria famiglia. Comunque ringraziamo Dio che questa sera ci dà la gioia di stare insieme e di lodare il Signore. questa sera vogliamo giubilare perché il Salvatore qui è mezzo a noi. Vogliamo iniziare con un bel canto di Natale e poi con tutte le più belle profezie che concernono il mistero del Natale e poi quello che il Signore ci ispirerà. Ci abbandoniamo allo Spirito e speriamo che il fuoco dello Spirito invadi i nostri cuori. e poi la nostra famiglia. Noi. 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 Grazie a tutti. ...che camminava nelle tenebre, vide una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rivolse, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te, come si gioisce quando si miete, come si gioisce quando si spartisce la preda, perché il gioco che gli pesava era sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo cusino tu hai spezzato, come al tempo di Malian, poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà così, esca del fuoco, poiché un bambino è nato per noi, ...ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Oh Signore, questa bella profezia che ogni tanto noi mettiamo qui come parola che viene da te, ci rallegra questa sera una grande luce e la comparsa di Gesù sul mondo. La verità e la vita scendono sulla menzogna, sull'inganno, scendono sulla morte, ma soprattutto il grande nemico che viene sconfitto, e il bastone della cusino, la sbarra del nemico che gravava sulle spalle nostra, viene spezzato, e viene spezzato dal bambino che è nato, questo bambino è Dio, sceso in mezzo a noi, ed Emanuele è Dio con noi, è il principe della pace, per cui tutto ciò che sta di guerra viene bruciato, perché la pace resterà in mezzo a noi. Oh Gesù, noi questa sera vogliamo celebrare il tuo Natale, la comparsa della luce della vita in mezzo a noi, vogliamo celebrare te, oh bambino divino, che ti sei fatto piccolo per noi, e hai incominciato a vivere quegli uomini qui sulla terra, che ti sei fatto uomo come gli uomini, per camminare con gli uomini e riportarli al Regno Celeste. Ti ringraziamo e ti benediciamo Signore, lodo e gloria a te, oh Signore. Nia Miraia noia noia, rana notaria, re-ra-li, tala non c'è bolla mi un Migliorare, ma io non c'è una maure, la una finestre al Regno Celeste. Sarai filmando quieto, e spessere la piu, ma io non c'è una maure, che ne ho un'è, la buona opera, ma io non c'è una maure, e io non c'è una maure, Ma io non c'è una maure, ma io non c'è una maure, ma cosa che non c'è una maure, L'antica rana, ma i'entala, i'ona i'ona i'terana L'umine di Anikitu, ma non uscione essere enti vettura Ma non vorrei te Sianacana i'erena ho'n'ayinastù Ma scendo quella che mi chanta io no Niki ricotta ma tutti sti non caletesti anana Signore, tu hai detto Signore, queste parole tu hai suggerite Vedrete la differenza che passa tra chi serve Dio e chi non lo serve Lo vedrete in questa vita e lo vedrete nell'altra vita Tanto servite il Signore, convertitevi a Lui perché Egli è venuto a cercarmi Signore, noi vogliamo camminare nella Tua strada Che è la strada della luce, la strada della verità, la strada dell'amore Può darsi che noi ancora non vediamo i risultati di questo camminare con Te Ma un giorno vedremo la differenza che passa Tra chi ti serve e non ti serve Tra chi ti ha seguito e non ti ha seguito Signore, in questa speranza In questa fede incrollabile Che si fonda sulla Tua parola Che noi vogliamo camminare con Te Con Te che sei venuto a camminare con noi Lode e gloria a Te, Signore Gioisci, esulta figlia di Sion Perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a Te, oracolo del Signore Lode e gloria a Te, Signore Gesù Perché ancora una volta vuoi dirci che viene ad abitare in mezzo a noi Viene a dimorare in mezzo a noi come Re e nostro pastore Lode e gloria a Te, Signore Gesù Lei già mi testi dato Il 31 Ma ecco l'alleante che io farò con la casa di Israele Dopo quei giorni, dice il Signore Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro cuori Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo Non dovranno più istruirsi null'altro Dicendosi a vicenda Impara a conoscere il Signore Ma tutti, dal più piccolo al più grande Mi potranno conoscere, dice il Signore Poiché io perdonerò la loro iniquità E non ricorderò più il loro peccato Lode e gloria a Te, Signore Signore, noi ti ringraziamo per queste parole Che ci danno tanto coraggio e tanta speranza Chiaria, noi ti ringraziamo per qualificare le cose E non ricorderò le cose E non ricorderò le cose Che ci danno molto di a... Non ricorderò le cose Che ci danno anche Un coraggio e non ricorderò le cose Grazie a tutti. 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 insieme al solito per le ore 18 intanto domani il gruppo del convegno, il gruppo degli anziani si riunirà insieme con il pastorale per concordare alcune cose necessarie per il bene della comunità e vi rinnova gli auguri se c'è qualche cosa ancora da annunziare